Stasera siamo stati invitati da Vandana, mi ha dato lui due testi, due canzoni, una è Canta Vittori e quell'altra è la prima volta che la facciamo, è La Ballada del QD. Non sono scritti da me, li ha scritti lui, li ho messi un po' a posto. Testo di Vandana, musica, Aloe, Genesia, Folk. Voglio dire una cosa, l'unico che suona è uno strumento normale, vedete? Questo è uno strumento pseudonormale, no? Perché lui invece c'è il violino ma gliel'hanno mangiato le tarme, l'hai dimenticato in qualche parte, l'ha bucato. Lui invece suona, posso dirlo come si chiama questo strumento, posso dirlo, i bambini, chiudete? Si chiama Cagoon, questo vuoi, si chiama Cagoon. No, è una cosa, avaiana qualcosa, no? Sì, ma è buono, Cagoon, Cagoon. Ah, non c'entra niente. No, Cagoon, Cagoon, Cagoon. Cagoon, non so che te lo dico. Cassone, Cassone, Cagoon. Comunque cominciamo a presentare gli elementi. Quindi lui è Cagoon, tu hai il Cagoon, lui come si chiama? Mamma mia, tre giorni. Di 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 Avriere, di Avriere. Al violino tipo Kaitry in the Village, oltre di Avriere è una bella violinista brava, anche che suona uno strumento come il tuo, che nei tre giorni hanno mangiato le tarme. Cesare. Cesare? la chitarra Matteo la chitarra Matteo alla voce ha scritto il test guadagna con la CIA e fa tutto lui ha lo Paolo Brambilla mi chiamo come il prete del paese non potete criticare guarda quante belle ragazze che vogliono venire a confessarsi da te allora noi ce ne andiamo finalmente vi liberiamo da questa nostra incommenza grazie ragazzi ciao vi lasciamo con 20-24 canzoni e poi dopo ci vediamo tra un po' bocca a lupo allora contavitori e poi dopo ci vediamo e poi dopo ci vediamo e poi dopo ci vediamo e poi 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 ci vediamo Roma, la vita del paese, laura, 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 la mia è marura Contami pori, la bella rida, come può fosse così sia Roma, la vita del paese, laura, laura, la mia è marura Contami pori, la bella, come può fosse così sia Roma, la vita del paese, laura, 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 la mia è marura Contami pori, la bella, la mia è marura, come può fosse così sia Roma, la vita del paese, laura, 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 la mia è marura Grazie